De Magistris sit-in di protesta a Roma. Oggi pomeriggio la protesta dei comitati Bagnoli Libera davanti Montecitorio per dire no al commissariamento della riqualificazione dell'area Exital Sider. Alla testa del corteo il sindaco e alcuni assessori. Una delegazione sarà ricevuta a Palazzo Chigi. Siani, 31 anni dopo, un murales per ricordarlo. Inaugurata questa mattina in via Romaniello l'opera per il giornalista del mattino ucciso dalla camorra. 26 frame realizzati su un muro lungo 38 metri sotto l'abitazione del giovane cronista. Furbetti del cartellino scandalo nel Salernitano. 12 dipendenti comunali smascherati dai carabinieri a Castel San Giorgio timbravano e si assentavano dagli uffici. C'era chi andava a fare la spesa e chi si fermava al bar. Innovazione ricerca le strategie per il sud. All'Assemblea generale di Confindustria Avellino il presidente nazionale Enzo Boccia indica la strada per il rilancio del mezzogiorno. Il governatore De Luca toglieremo fino all'ultima eco-balla da Piano Dardine. Alluvione in arrivo 80 milioni dalla regione. Palazzo Santa Lucia ha stanziato i fondi per ripristidare i danni causati nei territori del Sannio. Il consigliere regionale Mortaruolo così si va nella direzione giusta. Il grande basket in esclusiva su 696 confermata l'intesa tra la Sidgas Scandone Avellino e 8 Channel per il secondo anno consecutivo. Sarà una grande stagione annuncia il presidente San Pietro. Si comincia domani con la Supercoppa a Milano. Ben ritrovati con 8 Channel News. Erano i titoli dell'edizione delle 14. Bagnoli e il giorno della protesta. I comitati di attivisti e cittadini che dicono no al commissariamento per la bonifica dell'exital sider marceranno su Roma nel primo pomeriggio fino a Montecitorio accompagnati dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris che si è fatto portavoce del dissenso. In questi minuti i manifestanti sono fermi a Roma Sud con le forze dell'ordine che li stanno perquisendo al tappeto. Un clima molto teso, clima di grande tensione. Noi abbiamo raggiunto al telefono uno dei portavoce della protesta. Sentiamo il servizio di Rossella Strianese. Sono partiti in autobus e autoprivate alle 9 da Napoli. Sono arrivati a Roma verso mezzogiorno pronti a marciare verso piazza Montecitorio per dire no al commissariamento per la bonifica dell'ex area industriale di Bagnoli. Comitati e attivisti del movimento alla fine l'hanno spuntata. I manifestanti hanno ottenuto l'autorizzazione a spostarsi in maniera organizzata. Non c'è il sì al corteo ma c'è il via libera dalle forze dell'ordine a raggiungere Montecitorio insieme. Una delegazione poi dovrebbe essere ricevuta a Palazzo Chigi. Una manifestazione pacifica assicurano gli attivisti ma il clima è già molto teso. Nella capitale è stato ultimato il piano di sicurezza in un tavolo preseduto dal questore D'Angelo. Sul tema Bagnoli in occasione delle visite del premier a Napoli si sono verificati violenti scontri di piazza. I primi controlli sono scattati ai caselli dell'autostrada. I mezzi sono stati fermati alle porte della capitale per i controlli di rito che stanno richiedendo più tempo del previsto. Le forze di ordine pubblico hanno sequestrato i pullman e li stanno perquisendo in modo quasi criminale. Qui sono presenti studenti, consiglieri comunali disoccupati ma in modo assolutamente pacifico ma loro comunque ci hanno trattenuto ai margini di Roma per allungare i tempi di arrivo e per evidentemente boicottare i tempi della manifestazione. Noi siamo molto indignati rispetto a questo, pensiamo che la questione di Roma non può assumersi questa responsabilità di non far arrivare le voci di tante e tante sotto Palazzo Montecitorio perché chiedono e vogliono la revoca del commissariamento di Bagnoli. Da Napoli sono partiti ben 10 pullman, quindi per un totale di circa 500-600 persone e poi anche lì ci saranno appunto persone da tutta Italia a sostenere le ragioni degli abitanti di Bagnoli. Dunque che cosa vi aspettate da questo corteo? Sperate di parlare con qualcuno a Palazzo Chigi? Il corteo è arrivato sotto Montecitorio alla volontà di imporre la volontà popolare e in questo caso appunto verrà consegnata alla Presidenza del Consiglio una lettera che chiede ufficialmente la revoca del commissariamento bagnolese. Alla testa del corteo formato da diversi esponenti dei centri sociali, comitati notav, collettivi studenteschi ma anche partiti e singoli esponenti politici ci sarà il sindaco di Napoli Luigi De Magistris che su Bagnoli ha innescato da mesi un braccio di ferro con il presidente Renzi non riconoscendo al commissario Anastasi il suo ruolo nella cabina di regia contestando la decisione del governo col timore che dietro l'operazione ci sia il rischio di speculazioni. La presenza di De Magistris oggi al corteo fa pugni con quanto lo stesso sindaco ha dichiarato ieri all'arrivo di Mattarella a Napoli. Niente barricate non siamo sulla ventino aveva detto il sindaco provando a smorzare i toni dello scontro ma di fatto oggi ha scelto di stare dall'altra parte della barricata. Cambiamo argomento un murales per ricordare Giancarlo Siani il giornalista del mattino ucciso a Napoli esattamente 31 anni fa. L'opera è stata inaugurata questa mattina in via Romaniello. È il giorno della memoria dedicato a Giancarlo Siani il cronista del mattino ucciso dalla camorra 31 anni fa. La faccia pulita, il sorriso da ragazzola Olivetti nera e la mea riverde corrono sul muro di cinta lungo 38 metri che si trova davanti alla sua abitazione in via Romaniello. L'opera promossa da Paolo Siani, faratello di Giancarlo e da Inward osservatorio sulla creatività urbana è stata inaugurata questa mattina alle 9.30. È cominciata così la giornata per ricordare il cronista ucciso quando aveva 26 anni organizzata dalla Fondazione Polis, dall'Ordine dei giornalisti della Campania e da Libera. Paolo Siani annuncia che si tratta solo del primo murale dedicato ad una vittima di camorra. Ne faremo altri nei luoghi dove sono stati uccisi tanti altri innocenti. Il murale è impressionante e bellissimo, dice a caldo un emozionato Paolo Siani davanti al 26 frame che scorrono sul muro, dominati dal verde, speranza della meari e dal grigio della carta stampata. Dopo l'inaugurazione dell'opera la giornata è proseguita con la deposizione di fiori a cura del comune sulle rampe Siani in piazza Leonardo. Alle 12 i ragazzi delle scuole che hanno partecipato a un progetto di lettura e scrittura sono stati premiati alla sede del mattino. Nel pomeriggio un incontro sul caso Giulio Reggeni nell'ambito del premio Siani e del festival di giornalismo civile imbavagliati. Durante il dibattito ci sarà il video intervento di Roberto Saviano. La messa per Giancarlo sarà celebrata alle 18 e 30 da Don Tonino Palmese nella parrocchia dei Salesiani di via Scarlatti al Vomero. L'uomo morto all'ospedale Pellegrini a Napoli, per i medici nessuna traccia di fratture, invece il sessantenne aveva la schiena rotta. Indaga la procura sull'ennesimo caso di presunta malasanità. Simonetta Iepariello. A Giovanni Nascimento, il sessantenne originario di Capoverde, morto l'altro giorno a Cardarelli nel primo accesso in ospedale al vecchio Pellegrini, era stato diagnosticato un semplice trauma distorsivo cervicale. E invece si era rotto la schiena. Una gravissima frattura vertebrale scomposta, disallineata, con lacerazione del midollo spinale. Parte da questo frangente confermato dalla stessa direzione sanitaria del presidio della Pignasecca, la via Crucis del povero Yohao Agostinio Don di Nascimento. Il dato emerge dai referti radiologici, allegati all'attacchio e alle radiografie praticate al paziente durante il primo ricovero al pronto soccorso del vecchio Pellegrini. Referti lastre e cartelle cliniche sequestrate ieri dalla Polizia Giudiziaria, su disposizione del PM che indaga sulla morte del capoverdiano. Ora sarà il magistrato a ricostruire la dinamica dei fatti, esaminando minuziosamente le carte e valutando quanto accaduto a partire dalle ore 18.30 di lunedì fino alla morte del paziente mercoledì pomeriggio al Cardarelli. Viene intanto confermato il fatto che il paziente in un primo momento era stato dimesso circa due ore dopo il primo ricovero, proprio sulla scorta del risultato delle indagini diagnostiche praticate. Alle 23.30 circa del 19 settembre Don Nascimento torna in ospedale per il dolore e la grave paresia acuta agli arti inferiori e superiori. Nel dramma della successione di eventi sfavorevoli al povero sessantenne capoverdiano emerge anche il dato strutturale di un trasporto in ambulanza che sarebbe dovuto avvenire nell'immediatezza in un presidio dell'AS Napoli 1 dotato di neurochirurgia. Ci sono sia il Loreto Mare sia il San Giovanni Bosco e che invece, vista l'indisponibilità di posti, ha poi determinato la scelta del Cardarelli. Insomma una vicenda tutta da chiarire di cui si occuperà la procura di Napoli. C'era chi andava a fare la spesa, chi si fermava al bar e chi schiacciava un pisolino. Ennesimo scandalo con presunti furbetti del cartellino blitz dei carabinieri a Castel San Giorgio nel Salernitano. Beccati 12 dipendenti comunali. Lanzilli. Ennesimo scandalo di presunti fannulloni negli uffici pubblici della provincia di Salerno. L'ultimo in ordine di tempo riguarda il comune di Castel San Giorgio. Sono 12 dipendenti del municipio che risultano indagati attualmente sospesi dal servizio in seguito al provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore. Per tutti l'accusa a vario titolo è di truffa e uso di documento falso con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno ad un ente pubblico. Le indagini coordinate dalla procura nocerina insieme ai carabinieri della stazione di Castel San Giorgio e della compagnia di Mercato San Severino hanno scoperchiato un vaso di Pandora su presunti furbetti del cartellino. In pratica i 12 indagati, dopo aver timbrato, si allontanavano impunemente. C'era chi faceva la spesa, chi sostava al bar e addirittura chi schiacciava un pisolino. Ad incastrare i presunti fannulloni le immagini registrate tra la fine del 2015 e l'inizio di quest'anno, ma anche pedinamenti e controlli incrociati sui fogli di presenza. Nel mirino sono finiti gli impiegati del settore servizi sociali, del cimitero, del protocollo, dell'ufficio tecnico, del centralino e l'operaio addetto alle pulizie. Tutti e 12 dipendenti municipali sono stati sospesi per un anno con interdizione di svolgere alcune attività per l'ente. Si tratta dell'ennesimo blitz che riguarda episodi del genere nella pubblica amministrazione. Quello più eclatante e che interessa centinaia di dipendenti fino ad arrivare alla ribalta delle cronache nazionali è stata senza dubbio l'operazione Just in Time condotta da Procura e Guardia di Finanza di Saverna all'ospedale Ruggi d'Aragona. Le indagini proseguono, intanto sette lavoratori sono stati già licenziati. La caccia ai furbetti continua. Alle 7.35 di questa mattina i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti sulla A16 Napolicanosa nel territorio del comune di San Sossio Baronia per un incendio che ha interessato un autobus con 45 persone a bordo provenienti da Angri in provincia di Salerno e dirette a San Giovanni Rotondo per un pellegrinaggio. Due le squadre intervenute dal distaccamento di Grotta Minarda supportate da un autobus proveniente dalla sede centrale del comando di Avellino. Grazie al tempestivo intervento gli occupanti l'automezzo di trasporto sono stati messi tutti in salvo. Il lavoro di spegnimento e di messa in sicurezza del veicolo avvolto dalle fiamme è durato circa tre ore. Innovazione e ricerca, le strategie per il sud. All'Assemblea generale di Confindustria Avellino il presidente nazionale Enzo Boccia indica la strada per il rilancio del mezzogiorno. Il governatore De Luca promette toglieremo fino all'ultima ecoballa da Piano Dardine. All'ultima assemblea generale da presidente di Confindustria Avellino un emozionato Sabino Basso porta in Irpinia il presidente nazionale Enzo Boccia e il governatore De Luca. Innovazione e ricerca gli asset su cui investire per rilanciare il mezzogiorno e la provincia di Avellino e avviarsi alla quarta rivoluzione industriale, la fabbrica 4.0. Un grande messaggio che parte dall'Irpinia per recuperare una capacità del mezzogiorno di reagire e che possa diventare ed essere un laboratorio industriale di attrattività degli investimenti. L'Irpinia può giocare la sua parte, la Campania in particolare può fare una grande operazione diventando una delle regioni industriali più importanti del mezzogiorno. Dobbiamo essere eccellenti in ogni funzione aziendale, cavalcare la quarta rivoluzione industriale che tra l'altro il presidente Basso citerà a breve e intercettare tutte le occasioni di finanza perché questo è un mondo pieno di liquidità, sta alle imprese e intercettarla chiaramente anche con nuovi modelli e ne parleremo anche oggi in assemblea. Nel 2015 è bastato l'accelerazione della spesa per portare il PIL del mezzogiorno a livelli superiori a quelli del paese. Quindi segno evidente che se ci mettiamo insieme istituzioni, cittadini e imprese possiamo sicuramente dare una svolta al paese. De Luca dal canto suo chiede fiducia agli imprenditori irpini e snocciola l'elenco delle cose fatte da fare per Avellino, trasporti, infrastrutture, centri di ricerca e soprattutto ambiente. Porteremo via fino all'ultima ecoballa da Piano d'Ardine e bonificheremo la Valle del Sabato. Siamo partiti ovviamente dai disastri biblici dell'area Giuliano-Villaliterno ma è chiaro che ripuliamo tutto in tutte le province quindi anche qui dovremo togliere fino all'ultima ecoballa per ripulire il territorio. Poi in chiusura un siparietto con il sindaco Foti sull'ex isochimica. Fatemi sapere quando fate questa Benedetta Gara, comune di Avellino per isochimica, se no mi fate passare un guaio, se no passi tu e niente. L'assessore regionale Fortini a Salerno illustra i risultati del progetto Scuola Viva, 500 istituti aperti anche di pomeriggio contro la dispersione e l'ufficio scolastico assicura cattedre assegnate in tutte le province. Sono state superate le criticità. Un investimento di svariati milioni di euro che interessa ben 500 scuole su tutto il territorio regionale. L'assessore Lucia Fortini questa mattina al Quasimodo Alfano di Pastena a Salerno traccia il bilancio del progetto Scuola Viva. Per noi quest'anno sarà particolarmente importante, la regione ha investito sulle scuole, a brevissimo sarà pubblicata la graduatoria per Scuola Viva per cui le scuole potranno cominciare immediatamente la programmazione in orario pomeridiano. Si volta davvero pagina con il presidente De Luca. Lui crede molto nel valore dell'istruzione e noi crediamo fermamente che le scuole possano essere luoghi in cui ci sia sviluppo per l'intero territorio. L'appuntamento di questa mattina all'Istituto Salernitano è stata anche l'occasione per la dirigente dell'ufficio scolastico regionale Luisa Francese di fare il punto della situazione in merito all'assegnazione delle cattedre. In Campania ormai il piano è definito e, fatti salvi qualche rallentamento a Napoli, la mappatura è completa e dunque l'anno è iniziato senza criticità. Ultimeremo le operazioni di assegnazione provvisoria, quindi i concorsi abbiamo fatto le nomine, i ruoli sono stati fatti, quindi le classi sono tutte coperte, mancano piccoli dettagli, anche il personale ATA è stato nominato, quindi la scuola inizia bene. Ultimeremo le operazioni di assegnazione provvisoria, quindi i concorsi abbiamo fatto le nomine, il ruolo sono state fatte, quindi le classi sono tutte coperte, mancano piccoli dettagli, anche il personale ATA è stato nominato, quindi la scuola inizia bene. Una deflagrazione potentissima all'alba sotto sciocchi i cittadini di Rocca Bascerana in Irpinia per l'attentato verificato si impese intorno alle 5 di questa mattina, si tratta di una bomba carta fatta a deflagrare all'ingresso di un circolo privato, i danni ci sono stati sia per l'ingresso della struttura che per alcune auto parcheggiate dinanzi all'ingresso, di Velta, la porta d'ingresso del circolo, il davanzale e anche alcuni mobili all'interno. Sul posto i carabinieri che stanno effettuando rilievi accurati con la scientifica si punta a recuperare anche i filmati della videosorveglianza del posto per accertare chi abbia raggiunto il circolo la scorsa notte intorno alle 4.30 ha posizionato l'ordigno per poi sparire nel nulla. La giunta regionale della Campania ha stanziato 80 milioni di euro per il ripristino dei danni nei comuni alluvionati del Sannio. Il consigliere regionale sannita Mino Mortaruolo commenta così si va nella direzione giusta. 80 milioni dalla regione Campania per il Sannio, fondi stanziati dalla giunta regionale per il ripristino dei danni in 57 comuni colpiti dall'alluvione dell'ottobre 2015. Tra le diverse strutture ci sono 1.800.000 euro per le 13 chiese danneggiate nella diocesi di Cerreto Sannita, 2.300.000 euro per le imprese del consorzio Asi di Benevento e quasi 2 milioni per le terme di Telese. Sul dato si è espresso il consigliere regionale Mino Mortaruolo. Una marcia importante sulla ricostruzione. Credo che la giunta regionale, il presidente, tutto il consiglio ha lavorato nei mesi scorsi, ricorderete l'ordine del giorno, anche gli approfondimenti che abbiamo avuto a Napoli, beh finalmente e con molta celerità. Considerati i tempi della pubblica amministrazione e in maniera efficace credo che De Luca abbia dato una risposta importante. Indirittura d'arrivo nell'ambito dell'alluvione anche il progetto relativo al ripristino degli alvei fluviali. La conferenza dei servizi è stata di nuovo chiusa il 1 settembre con pareri assolutamente favorevoli. Ora credo che l'iter procedurale passi alla regione Campania e sono convinto che quella soluzione che è sostenibile, che fa bene al territorio e che lo mette in sicurezza sarà licenziata in tempi strettissimi. Diventa ogni giorno più critica la viabilità nel Cilento. Due massi si sono staccati dal costone che sovrasta la strada provinciale 16 tra i comuni di Caselle Impittari e Morigerati. Per fortuna nessun veicolo transitava in quel momento e la tragedia è stata solo sfiorata. L'arteria è comunque chiusa al traffico con non pochi disagi per gli automobilisti del territorio. È la terza strada off limits in questa parte della provincia di Salerno. Nessun basista ISIS in Irpinia. A chiarirlo gli investigatori della Digos che stanno indagando sulla presenza del giardiniere marocchino a Cervinara che si è arruolato in Siria. Nessun basista islamico in Irpinia. Il giardiniere marocchino non ha lasciato un nucleo di radicali a Cervinara. Nessun elemento di allarme per il territorio. Le rassicurazioni sono arrivate direttamente dalla questuria di Avellino. Il giardiniere, ospitato da un ristorante di Cervinara, è sparito quando il contatto che aveva cercato con i facilitatori dell'ISIS per andare a combattere in Siria è andato a buon fine. La sua presenza in Italia dunque era momentanea. Le date sono ben definite. L'uomo è rimasto nella Valle Caudina per tre mesi. Lo hanno chiarito gli investigatori milanesi al processo di Fatima, la prima italiana partita per la Siria. Il contatto tra la vicenda di Giulia Sergio originaria di Domicella è individuato dagli inquirenti in un cellulare turco a cui il misterioso giardiniere e la combattente italiana si sono rivolti in tempi diversi per trasferirsi in Siria. Una telefonata partita da Cervinara, dato che all'inchiesta della procura miranese ha collaborato anche la DIGOS di Avellino per raggiungere i campi di addestramento. La situazione è monitorata con attenzione. L'attività di fotosegnalamento dei profughi, insomma, è solo una delle fasi dell'analisi del fenomeno, ma vengono monitorate con attenzione anche carceri e altro. Insomma, l'attenzione delle comunità di immigrati è costante. Non suona la campanella per i bambini di Palma Campania. La scuola è senza il certificato antisismico. In paese scoppia la protesta. Una scuola nuova di Zecca che ha ottenuto di recente un ingente finanziamento regionale per la sua riqualificazione e ristrutturazione. Lavori realizzati ad opera d'arte. Una scuola che però non ha ancora aperto i battenti. Siamo a Vico, frazione di Palma Campania, nel Napoletano. Un piccolo borgo che conta poco più di 800 anime, dove, purtroppo, la campanella non è ancora suonata per i suoi bambini, costretti ad ispatriare nei plessi del centro cittadino o dell'altra frazione Castello. Il Comune si difende e parla di problemi burocratici. L'opposizione però alza il tiro e denuncia la mancanza della certificazione antisismica. La mancata apertura della scuola a Vico è l'ennesima prova dell'inefficienza dell'amministrazione Carbone. E questa è la battaglia che noi stiamo portando avanti, noi dell'opposizione, perché per una semplice e banale certificato che doveva essere ritirato verso il Genio Civile di Napoli e che l'incuranza, la superficialità degli amministratori dell'amministrazione Carbone ha fatto sì che questo certificato non venisse ritirato e di conseguenza la scuola rimanesse chiusa. Però il Sindaco dovrebbe anche spiegare come è possibile terminare dei lavori quando manca il certificato antisismico, nel senso che sappiamo che il certificato significa che i lavori possono iniziare e da quel momento poi dopo terminati i lavori c'è bisogno del collaudo. Invece qua Palma, il Sindaco che dovrebbe essere il garante delle norme, ci sta dicendo che i lavori sono stati fatti in maniera opposta. Blitz della Polizia in un istituto scolastico di Avellino. Questa mattina due studenti sono stati trovati in possesso di hashish e ora sono stati portati in questura per essere ascoltati. Secondo quanto riferito, la sostanza stupefacente è stata ritrovata anche nei bagni della scuola. Da accertare il quantitativo esatto, molto subbuio tra le classi per l'improvviso arrivo degli agenti in divisa e in borghese nella scuola. Lezioni bloccate solo per alcuni minuti in alcune classi. I due sedicenni ora dovranno chiarire alcuni aspetti della vicenda, in particolare come è entrata la droga nell'istituto e chi l'ha consegnata. Cita il discorso alla montagna dello stesso San Matteo il sindaco di Salerno Enzo Napoli che replica le polemiche delle opposizioni e annuncia una presa di posizione ufficiale da parte dell'ente comunale dopo l'assenza alla processione del santo patrono. In questo vociare ad alta intensità con le polemiche che si sono susseguite all'indomani della processione, il sindaco di Salerno Enzo Napoli prova a chiarire la posizione del comune e lo fa citando proprio uno dei discorsi più famosi riportati nel Vangelo di San Matteo quello di Gesù nel dialogo della montagna. Redigerò un comunicato stampa che renderò alle emittenti locali, alla carta stampata proprio per chiarire quali sono le considerazioni che abbiamo fatto e che stiamo facendo sulla vicenda di cui voi state trattando. Come è noto io mi permetto di usare una considerazione di San Matteo che diceva il vostro discorso sia sì sì non no tutto il resto appartiene al diavolo faremo le nostre considerazioni. Un modo per dire in questi giorni troppe parole superfue la sostanza è ben altra. Certamente l'annuncio di una presa di posizione ufficiale da parte della fascia tricolore servirà a chiarire le cose. Lecito immaginare che arriverà l'indomani delle parole dell'accivescovo Luigi Moretti che domattina ha convocato la stampa per il tradizionale bilancio della festività di San Matteo. Un fine settimana dunque che si annuncia particolarmente importante. Comune e Curia daranno le proprie versioni con una duplice prospettiva all'orizzonte o le polemiche andranno definitivamente in archivio oppure sarà il redder azionem per l'ultimo grande scontro. La guardia di finanza di Caserta ha arrestato nella mattinata di ieri 14 persone con l'accusa di contrabbando aggravato e recuperato circa 5 tonnellate di sigarette a Teverola in provincia di Caserta. I militari hanno intercettato e pedinato un tir con targa della Lituania fino a un deposito della zona industriale Asi. Qui hanno sorpreso 14 persone, tutte di nazionalità italiana, che stavano scaricando dall'automezzo bobine apparentemente contenenti cavi elettrici. All'interno delle bobine erano nascoste le sigarette di contrabbando di note Marche Estere. Nel tir è stata trovata una ricetrasmittente utilizzata dai contrabbandieri per comunicare senza utilizzare i telefoni cellulari a rischio intercettazioni. Le sigarette, che hanno un valore di mercato di circa un milione e mezzo di euro, ed il tir sono stati sequestrati. Ancora disagi per i pendolari della Valle Caudina. Tre pullman del trasporto pubblico locale questa notte sono finiti nel mirino dei vandali che hanno distrutto i mezzi parcheggiati davanti alla stazione, soppresso il servizio per l'intera giornata. Giovanna Dinotte. Brutta sorpresa questa mattina per i pendolari Caudini. L'ennesima tre pullman dell'Eav parcheggiati davanti alla stazione ferroviaria di San Martino sono stati distrutti non permettendo all'azienda di svolgere il regolare servizio di trasporto pubblico tra il capoluogo Sannita e alcuni comuni della Valle. Ingenti i danni, devastati il circuito elettrico e quello meccanico. I malviventi hanno agito questa notte, probabilmente dopo aver tentato di rubare la nafta come accaduto pochi mesi fa. Ma proprio per evitare ciò i tre mezzi erano stati parcheggiati in modo tale da non permettere l'accesso al serbatoio. Dopo essere stati avvisati dagli autisti dei mezzi Eav, sul posto sono giunti i carabinieri della stazione locale e la polizia municipale. Nel frattempo, non avendo altri mezzi a disposizione, per oggi l'azienda ha soppresso il servizio di trasporto. Un trasporto che viaggia tra mille difficoltà. Il rappresentante sindacale della CGL Luigi Formato precisa. Purtroppo i mezzi che abbiamo a disposizione sono pochi e episodi del genere non fanno che danneggiare l'utenza e l'azienda. Probabilmente il servizio dovrebbe riprendere già da domani. Le 14.26 minuti e 22 secondi. Si chiude qui l'edizione di 8 Channel News dell'ora di pranzo. Adesso c'è il TG Sport. Poi alle 15 una nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Buona giornata, arrivederci. Grazie.